Giorgio Soab, il fulmine Raffaele, Carrieri, un critico sereno. Ecco, disse il poeta Raffaele Carrieri, tu volevi darmi una bella storia? Io te l'ho raccontata. Lo vedi? E il biglietto della visita è lì, infilato nella cornice di quel quadro di Marlotti. Cosa vuoi che ti dico? Ogni tanto ci penso, poi rimando. Sarà un pazzo, un pazzo, un pazzo. E se non lo fosse, anche questo capisce possibile. Beh, non sarà vero. Tu che ne dici? Vorrei andare a Portofino in incognito, vedere, guardare, chiedere in giro. Partiamo? Ma subito. Registretto Milano Lombricio, fotografie di Giorgio Soab, il fulmine Raffaele, nella casa di via Borgo Nuova, Milano. La libreria. Lui con la sua libretta. Se non sbaglio, è la lettera 22. Proprio Bessera. Tutti i rapparti artistici, quadri e compagni a bella. Nella casa di campagna Lombricio. Lui deve essere qui con la moglie, qualcosa del genere. Deve essere sua moglie. Il poeta morente. Raffaele si aggiusta per stare. Dunque...